Ciao a tutti! Oggi stavo qui con questo bimbone, Monella Coli! Anto, saluti? Ciao! Il saluto di mio cugino, sempre unico. Allora, voglio dirvi che questa casa che ci stiamo giocando ha un palloncino. Antimo, lo passi Anto? Passa, passa! Lo sa? Aiua! Allora, stavo dicendo, aspetta un attimo. Questo qua è uno che avete già visto così, però questo qua ha i puntini. Infatti non sono neanche fatti bene, però comunque è molto bello e morbidoso. Un attimo che giochiamo. Volevo dirvi che l'ho comprato su un amante soltanto 9 euro, pochissimo. È una cosa molto utile e vi devo dire ciaoone, ma è impossibile dirvelo. Siete proprio... Non voglio bene. Tieni Anto, faccio sport io. Pronto? E uno, e due, e tre. La presa di mio cugino. Unica. Vi voglio dire ciao perché altrimenti vi annoiate. Gli ho fatti tre di video. Gli ho fatti tre, quindi vogliamo... Dato che si è appena svegliato, intanto un pochino capiccioso. Comunque vi voglio dire ciaoone e... Bumbu, nin nin nin. Saluti Anto! Ciao! Ciao! Bumbu, nin nin nin. Ci continuiamo a giocare. Ciao!